Vaccini over 80 nel VCO, tante le chiamate ai medici di famiglia e non si segnalano particolare criticità. La campagna parte domenica. Falsa partenza, sci ci rioscrive a Draghi e presenta il conto. Operatori del Mottarone, una mazzata per impianti e indotto. Una questione segnalata da voi in Valle Vigezzo preoccupano le condizioni del viadotto di Gagnone a Druogno. Il distretto dei Laghi e delle Valli guarda il turismo accessibile con webinar per gli operatori e con la proposta di esperienze per tutti. Dante As VCO con il cantante della solidarietà la donazione di carrozzine a nove case di riposo del territorio. Nuova puntata di Baschettando, ospiti l'ala della Paffoni, Giorgio Sgobba e il play Cesare Zugno. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale parliamo della campagna vaccinale locale perché domenica parte quella per gli over 80. Sono tante le chiamate per le preadesioni che sono già state ricevute dai nostri medici di famiglia. Dal momento non si segnalano criticità e regolare anche la fornitura delle dosi si lavora per incrementare i punti vaccinali. Adesione alla vaccinazione anti-covid degli over 80 che nel verbano Cusiossola sono 14.000. Tante le telefonate ai medici di famiglia che si occupano della preadesione ma nessuna problematica nell'area dell'Asl. VCO in questi primi due giorni in cui è possibile per gli ultraottantenni, comprese le persone nate nel 1941, segnalare la propria volontà di aderire alla campagna. Tra ieri e oggi già un terzo dei miei assistiti aventi diritto mi ha chiamato per la preadesione. Cita ad esempio il presidente dell'ordine dei medici del VCO, Antonio Lillo, che spiega Noi valutiamo lo stato di gravità indicando una priorità alta o normale e la trasportabilità o meno del paziente inserendolo nell'apposita piattaforma con recapito telefonico o mail. Poi c'è tutta la questione del consenso informato e della scheda anamnestica. Con l'arrivo a scaglioni delle dosi sono in media 10-15 i pazienti gestiti settimanalmente da ciascun medico di famiglia. Questi ultimi inviano quindi i dati, sarà poi il servizio di igiene pubblica dell'Asla VCO a comunicare all'assistito, data, luogo e ora della vaccinazione con una mail, con un messaggio o con una telefonata. I numeri della prima giornata in cui era possibile preaderire, quella di ieri, nel VCO 1.400, gli over 80 che si sono fatti avanti, nel Novarese 2.423. Ricordiamo che per loro la campagna parte domenica, sabato al via quella per le forze dell'ordine e nei prossimi giorni sarà attiva anche per il personale scolastico. Ricordiamo che anche i lavoratori della scuola possono da ieri registrarsi nell'apposito portale. I numeri per la prima giornata nel VCO 939 adesioni nel Novarese 2.135. Per ora è regolare la ricezione delle dosi a livello locale, ma dove ci si vaccinerà? Dall'Asla VCO riferiscono al momento a Crusinalo di Omenia e presso i distretti di Domodossola e Verbania, ma si stanno allestendo nuovi punti vaccinali nella ex-sede della Banca Intesa di Verbania e presso la Casa della Salute di Premosello. Con la collaborazione dei medici di famiglia si vorrebbe vaccinare anche presso la Casa della Salute di Cannobio. A Domodossola individuati ulteriori spazi, sempre presso un'ex-banca, domani previsto un sopralluogo. Potrebbe essere attrezzata pure la sede dei servizi territoriali Asla di Santa Maria Maggiore. Disponibilità di Crevola Dossola con la sua Casa della Salute, che però, in fase di valutazione, vista la vicinanza con Domodossola. Torniamo ad occuparci dello stop in extremis. Allo sci, il governatore del Piemonte, Cirio, ha scritto al Premier Draghi e gli ha presentato il conto. Ciò che ci amareggia e riteniamo irricevibile non è il merito, bensì il metodo di questa decisione, che vogliamo però considerare come ultimo residuo di una modalità a cui il precedente governo ci ha purtroppo messo di fronte spesso, afferma. Per questo mi rivolgo a lei, nella certezza, prosegue Cirio, che il suo esecutivo vorrà avviare un nuovo percorso di confronto istituzionale, di condivisione su tutti gli ambiti. Il governatore parla di ristori a fronte di ricavi annuali dello sci piemontese, che ammontano a circa 60 milioni di euro. Sul modello francese, ciò che chiediamo è che ne venga ristorato almeno il 50%. Precisa il governatore aggiunge un ulteriore indennizzo, però deve anche essere previsto per i costi aggiuntivi causati dalle 5 false partenze subite dal comparto fin dall'avvio della stagione invernale, che hanno generato un aumento dei costi fissi del 20%, circa 12 milioni di euro, che chiediamo siano indennizzati al 100%. Nell'incontro di ieri pomeriggio con il ministro Garavaglia ci è stato assicurato che l'entità e la modalità dei ristori saranno definite entro la settimana corrente e noi ci appelliamo a lei affinché ciò avvenga. Sempre nell'incontro con Garavaglia, Cirio ha chiesto che gli impianti di risalita siano inseriti tra gli obiettivi su cui poter intervenire attraverso le risorse del piano Next Generation EU, richiesta ribadita al Premier, al ministro Gelmini, chiesta la convocazione urgente della conferenza delle regioni per un confronto sulle azioni da intraprendere. Cirio auspica la partecipazione anche di Draghi. E dopo la falsa partenza dal Mottarone commentano una bella ammazzata per gli impianti ma anche per tutto l'indotto dai maestri di sci al noleggio, a bar e ristoranti. Tanta neve così non si vedeva dall'inverno del 2013. Tanta amarezza da parte degli operatori del Mottarone per questa mancata ripresa dell'attività sciistica, Massimo. Sì, è stata una bella ammazzata perché effettivamente tra tutti gli operatori che lavorano intorno agli impianti di risalita per cui maestri di sci, noleggi, anche chiaramente noi come albergatori stiamo soffrendo un pochettino di questa situazione ma anche perché con la speranza della ripresa c'erano anche tutte le prenotazioni a seguire per cui adesso sarà in tribulare per dover restituire tutte le caparre già versate chiaramente e niente, dopodiché si spera che la situazione possa cambiare. Può solo cambiare meglio ovviamente, però per intanto la situazione non è delle migliori. Con una condizione nevosa del genere, che sono sette anni che non vedevamo una situazione così, oggi piange al cuore veramente, non si riesce a capire come poter provvedere a trovare una soluzione. Massimo, si dice che il governo stanziarà presto ristori per gli operatori della neve, per ristoratori, però quello che emerge è la volontà di lavorare da parte vostra, da parte dei maestri, da parte di chi gestisce gli impianti. Cioè il ramarico più grande è proprio quello che si poteva lavorare in sicurezza secondo voi? Senza ombra di dubbio, senza ombra di dubbio. Le sicurezze teniamo presente che è già da maggio dell'anno scorso, da quando abbiamo riaperto, che le distanze vengono mantenute e sono mantenute. Questo sia a mezzogiorno che alla sera. Ovviamente strutture come la nostra, io parlo un po' di Mottarone, per cui strutture piccole e ricettive. Se non hai la possibilità di aprire il ristorante alla sera, è chiaro che viene preclusa anche l'apertura della parte albergo, perché dopo diventerebbe anticonveniente. Siamo agli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. La situazione locale nel VCO, un nuovo decesso, 38 nuovi positivi e 47 guariti. Nel Novarese i nuovi decessi registrati sono 4, 69 i nuovi contagiati e 74 le persone guarite. A livello piemontese 771 nuovi positivi, pari al 4,1% dei 18.824 tamponi eseguiti, 37 decessi e 834 guariti. I ricoveri in ospedale scendono di tre pazienti ricoverati in terapia intensiva in Piemonte, sono 141, scendono di 33 i ricoverati nei reparti ordinari, sono 1.900, isolamento domiciliare per poco più di 10.000 persone. Ed ora una questione segnalata da voi. Andiamo in Valle Vigezzo dove preoccupano le condizioni del viadotto di Gagnone. Tutto denunciato sui social con una foto che ha fatto il giro del web. In Valle Vigezzo preoccupa la situazione in cui versa il viadotto di Gagnone nel comune di Druogno. Si tratta del ponte che si trova all'ingresso del paese, al centro di Potresta negli anni passati per le condizioni del manto stradale. Allarmi rientrati dopo gli interventi messi a punto da ANAS. Ora, a intestarsi i nuovi timori, è stato un gruppo di cittadini. L'appello è partito dalle pagine Facebook. Un vero e proprio allarme, a destare paura alla condizione in cui versa il manufatto, i piloni del viadotto soprattutto. Le fotografie del degrado del cemento hanno fatto il giro del web in questi giorni, richiamando l'attenzione di molti abitanti della valle. Qualcuno ha debita dell'intemperio e dell'erosione del calcestruzzo. Le immagini sono la testimonianza fedele di quanto riportato. La strada in questione è la statale che collega l'ossolo al canton Ticino, croceviglia di traffico importante. Da qui passano infatti tanti frontalieri che giornalmente attraverso la statale 337 raggiungono la vicina Svizzera. Il ponte in questione è poi percorso da tutto il traffico che dalla valle si riversa verso il Domodossola e viceversa. Lavori a Fondotoce. L'amministrazione di Verbania vuole confrontarsi prima con il quartiere. Giovedì è in programma un incontro online. Tutto pronto per partire con il cantiere di piazza Adua Fondotoce, ma prima l'amministrazione vuole confrontarsi con il quartiere. I lavori, spiega l'assessore ai lavori pubblici Nicolò Scalfi, potrebbero iniziare già a marzo. Dureranno circa due mesi e alla fine restituiranno la piazza riqualificata e sicuramente più attrattiva. Contestualmente stiamo analizzando all'interno del piano urbano del traffico tutte le soluzioni dal punto di vista della messa in sicurezza della viabilità. È già stato fatto un sopralluogo per il posizionamento di semafori e di attraversamenti sicuri. Se ne parlerà il 18 febbraio alle 18 nel corso di una riunione aperta con il quartiere Ovest in modalità videoconferenza. Chi desidera ricevere il link per collegarsi può scrivere a comunicazione.sindaco.verbagna.it. L'obiettivo, conclude Scalfi, è di arrivare prima dell'estate con fondotosce completata. Certamente però vogliamo ascoltare prima le istanze che arrivano dall'attività commerciale e dagli abitanti del quartiere. Sappiamo benissimo che ci saranno dei disagi inevitabili. Il progetto approvato dall'amministrazione comunale per piazza Adua prevede la pedonalizzazione, anche se solo parziale, per consentire ai residenti di accedere ai propri garage. Inoltre sarà rifatto l'impianto di illuminazione e sono previste nuove aree verdi e arredi urbani per abbellirla. Il costo dell'opera è di circa 250 mila euro. La realizzazione del nuovo parcheggio, poco più avanti, nell'area espropriata dal comune, è stata la condizione fondamentale per garantire sufficienti stalli alla frazione. Alice De Ambrogi, della segreteria PD del VCO, esorta un'assunzione di responsabilità in materia di rifiuti per compiere l'unica scelta utile per mettere all'azienda con servizio di mantenere le attività che si svolgono presso l'area di Prato Michelaccio per il tempo utile a realizzare il nuovo impianto di stoccaggio a Ornavasso. Ora è tempo, afferma De Ambrogi, dell'unità traenti per creare sviluppo e non pesare sulle tasche dei cittadini. Nessuno chiede forzature contrarie alle norme. Piuttosto si trovi tutti insieme il modo per uscire dall'angolo e proporre una strada fattibile a norma di legge che corrisponda anche agli interessi dei cittadini, evitando rincari alla tassa rifiuti e possibili disservizi. Da più di un anno, rimarca De Ambrogi, tutti i sindaci si esprimono unanimemente sul percorso industriale impostato da Conservicio, fatto di investimenti importanti che potranno avere un considerevole impatto dal punto di vista occupazionale, ambientale ed economico. Siamo a un bivio e chiediamo a tutti gli attori coinvolti a partire dalla provincia e dalla regione uno sforzo in più per raggiungere il risultato. Bilancio dell'attività del sindaco di Invorio Pellizzoni si guarda anche qui ai rifiuti, ma anche alle opere pubbliche con l'approvazione del piano triennale e poi il punto sui contributi alle associazioni del Paese, istituita la consulta dei giovani. A 130 giorni dall'insediamento, il sindaco di Invorio, Flavio Pellizzoni, fa un bilancio della sua attività. Gli interventi sono stati molti, dall'ambiente dove è partito progetto un albero per bimbo con la consegna del primulivo. Dice, il Comune ha partecipato alla premiazione del premio Comune Riciclone che certifica gli ottimi risultati, l'impegno degli invoriesi sul tema rifiuti. Sono partiti i contatti con il Consorzio Medio Novarese per migliorare il servizio di conferimento. Poi Pellizzoni continua, è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche per un importo totale di 1.680.000 euro. È stata conclusa la fase di progettazione per interventi di sistemazione del Porfido in via Curioni e per la sistemazione del marciapiede di via Monterosa, affidati gli incalichi di progettazione per la ristrutturazione del lavatoio di Invorio e del tetto dell'ex asilo Sartore ad Invorio Superiore. Poi il sindaco passa i contributi. Sono stati erogati i contributi straordinari all'AIB per il continuo supporto nella gestione dell'emergenza sanitaria e ripresa la collaborazione con la Proloco grazie alla quale sono state avviate iniziative. Prosegue anche il lavoro del Comitato per il gemellaggio programmando nuove attività per il 2021. È stato rinnovato il Consiglio di Biblioteca per consentire la preparazione delle iniziative culturali e proprio in biblioteca è stato riaperto lo sportello forestale a supporto di chi deve fare interventi sul patrimonio boschivo. Istituita anche la consulta dei giovani che andrà a promuovere iniziative culturali finalizzate a un target under 35. Torniamo ad occuparci della truffa del sedicente avvocato Agos. Segnalazione di tentativi di truffa anche a livello locale, sventati grazie all'informazione in merito circolata in questi giorni. La truffa del sedicente avvocato Agos, della quale vi avevamo riferito nei giorni scorsi su segnalazione della Feder Consumatori e della stessa azienda, è arrivata anche nel VCO nel Novarese. Alcuni cittadini della zona hanno contattato telefonicamente la locale sede di Feder Consumatori proprio dicendo di essere stati destinatari del tentativo di truffa. Fortunatamente, grazie all'informazione apprese dai mezzi di stampa, sono riusciti a non farsi raggirare dal presunto avvocato, precisi responsabili locale dell'associazione Orazio Filocamo, in particolare si segnala una signora di Borgomanero, momentaneamente morosa di alcune rate nei confronti di Agos. Il falso avvocato, nel contatto telefonico avvenuto lo scorso venerdì, utilizzando toni molto pesanti, ha richiesto il pagamento della somma di 400 euro per chiudere la pratica, precisando che in 48 ore si sarebbe attivato con l'ufficiale giudiziario per pignorarli i beni. La malcapitata non è cascata nel tranello, insieme al legale di FederConsumatori, Ezio Iapichino, si sta attivando per una possibile querela. Lo stesso Iapichino ci fornisce consigli utili quando si è destinatari di tali telefonate e dubbie. Innanzitutto bisogna richiedere con insistenza tutti i dati dell'interlocutore per verificarne l'attendibilità. Ovviamente si consiglia di sporgere querela e di contattare immediatamente Agos, segnalando il tentativo di truffa. Inoltre non bisogna cadere nel panico quando si viene minacciati di pignoramenti, in quanto, in assenza di un procedimento giudiziale e di emissione di relativa sentenza, l'ufficiale giudiziario non ha titolo per poter espletare azioni esecutive. La tattica del pignoramento viene utilizzata per incutere timore e quindi rendere più agevole la truffa. Il distretto dei Laghi e delle Valli guarda al turismo accessibile e lo fa con una serie di incontri informativi a distanza con gli operatori del settore. Poi verranno approntati una serie di percorsi ed esperienze sui laghi e sulle valli per tutti. Si tratta di una richiesta che ogni anno arriva agli uffici turistici. Il distretto dei Laghi e delle Valli guarda al turismo accessibile e, primo step, promuove l'informazione degli operatori del territorio con un ciclo di webinar rivolto agli operatori turistici locali al fine di sensibilizzare, informare e formare chi opera costantemente con il pubblico circa le pratiche più efficaci da applicare nella quotidianità per accogliere ed ospitare i turisti con differenti esigenze. Il progetto si chiama For All Turismo per Tutti ed è promosso dal distretto in collaborazione con la cooperativa Domese Differenza e l'associazione Rotellando. Negli incontri virtuali si parlerà con esperti di accoglienza, soggiorno, visita di luoghi e attrazioni per turisti con disabilità. Il distretto poi andrà avanti, contando sul prezioso aiuto di una realtà rodata quale Rotellando, a promuovere esperienze fattibili per tutti di visita, di movimento e di vacanza, tanto sui laghi quanto nelle nostre valli, puntando l'attenzione dal punto di vista del disabile su quello che si può fare rispetto a quello che non si può fare. L'obiettivo sarà implementare di questi utili contenuti il portale turistico ufficiale distrettolaghi.it, gli e-book del distretto e la collana di pubblicazioni tematiche istituzionali, il tutto in versione multilingue. Alla domanda cosa può fare un disabile una volta giunto qui, spiegano dal distretto, vorremmo poter rispondere con informazioni aggiornate e novità, con proposte belle e garantite. Questo genere di richieste arriva con regolarità ogni anno dall'utenza italiana e straniera che contatta gli uffici turistici. Ed ora la donazione di carrozzine alle case di riposo del territorio da parte di Anteas VCO, con la collaborazione del cantante della Solidarietà, Salvatore Ragneri. Il momento di consegna simbolico si è tenuto ieri presso il CIS di Verbagna. In qualità di presidente dell'Anteas, che è un'associazione di volontariato della CISL, più precisamente del sindacato dei pensionati della CISL, abbiamo colto l'occasione di fare una donazione alle case di riposo e alle RSA del territorio. Come associazione di volontariato abbiamo immediatamente prestato la nostra attività di volontariato, soprattutto per trasportare, accompagnare le persone anziane bisognose, per fare le visite mediche, per portare da casa le spese alimentari, i medicinali. Ma abbiamo anche riscontrato che le RSA hanno avuto delle sofferenze. E quindi, pur avendo scarse risorse come associazione, abbiamo ritenuto però di fare uno sforzo per donare degli ausili sanitari che sicuramente potranno essere utili alle loro case di riposo. Anteas collabora in un progetto denominato La Cura è di Casa, finanziato e sostenuto economicamente dalla Fondazione Comunitaria del VCO e della Fondazione Cariplo, attraverso anche il servizio, servizi sociali del Verbano. Ed è per questo che oggi non solo doniamo queste carrozzine, ma ringraziamo i servizi sociali per darci questa possibilità. E nell'occasione devo anche ringraziare, come Anteas, il cantante della solidarietà, Salvatore Ragnieri, che appena coinvolto ha subito aderito partecipando alla donazione di questi ausili. È stato un onore aver aderito al progetto dell'Anteas VCO con la donazione di carrozzine. Ha coperto nove case di riposo con questi ausili sanitari. Devo dire che Anteas sta facendo un lavoro straordinario su tutto il territorio e come cantante della solidarietà è una bellissima collaborazione. E il pensiero del martedì di Don Renato Sacco è rivolto a chi è ammalato e a chi rischia di sentirsi solo, ma anche alla società, perché non dimentichi le persone che devono sempre restare al centro, soprattutto le più deboli. Sì, ben trovati. Vorrei rivolgere un pensiero, un saluto, se fosse possibile, farlo arrivare a tutte le persone ammalate, a chi è in casa, a chi è negli ospedali, a chi è malato di Covid o anche di altre malattie, a chi in fondo rischia di sentirsi solo. Tutti noi abbiamo amici o amiche che in questi giorni sono negli ospedali o magari anche intubati in rianimazione. Vogliamo fare in modo, con la preghiera, con un pensiero, come siamo capaci, fare in modo di fare arrivare a loro che non si sentano soli. Questo credo sia importante, che si sentano ricordati e sostenuti da ognuno di noi. Però vorrei rivolgermi anche a tutti gli altri, a noi sani, alla società, per evitare di lasciarci prendere un po' dalla frenesia dei miliardi che arrivano dall'Europa, dal nuovo governo, dal bisogno di una ripresa economica e di dimenticare proprio le persone. Stiamo attenti a non dimenticare che al centro ci sono le persone, soprattutto le persone più deboli e in questo tempo magari proprio quelli ammalati. Credo che non dobbiamo fare arrivare agli ammalati quasi un messaggio che si debbano sentire in colpa perché sono ammalati. C'è la ripresa, c'è, e questi rischiano di essere visti come una palla al piede. No, non deve essere così il contrario. Ce lo ricordava anche Tonio Dell'Oglio nei suoi pensieri quasi quotidiani su un mosaico di pace, ricordando anche come dobbiamo fare in modo che il vaccino sia per tutti e non in privilegio di qualcuno. L'immunità è di greggio quando è globale e le varianti in corso vengono a richiamarci proprio questo, garantirsi il vaccino entro gli steccati della propria condizione di privilegio può rivelarsi una tragica illusione. E poi però conclude ma ci sono convinzioni, egoismi e comportamenti talmente incisi nelle nostre intelligenze da non riuscire ad essere scalfite nemmeno dal grido della sofferenza e della morte. Ecco allora per chi è credente anche la quaresima che inizieremo domani, mercoledì delle ceneri, ci aiuti a convertirci da questo, proprio partendo dalla sofferenza di alcuni vicino a noi. Ci vediamo venerdì con Non Di Solo Pane. Nella pagina sportiva la nuova puntata di Baschettando che vi aspetta come sempre stasera alle 21 e ancora domani mercoledì alle 13.30 e alle 17.30. Le anticipazioni. A puntamento con Baschettando una puntata in cui parleremo soprattutto dei prossimi impegni della Paffoni, il prossimo che significa trasferta al Flaminio contro la banca Riviera Rimini per mettere in cassaforte, nel mirino, scegliamo il termine, non lo so, il primo posto, insomma, è una sfida per il primato. Insieme a noi qui a Omegna Giorgio Sgoba, ciao Giorgio. Ciao Daniele, grazie a tutti, grazie a Baschettando. E Cesare Zunio che torna sul luogo del delitto dove aveva cominciato la sua avventura a Rosso Verde. Esatto, ciao, buonasera a tutti. Una partita importante, la Paffoni ci arriva senza avere giocato, peccato aver così staccato la spina, non per responsabilità vostra, ma per il Covid che ha colpito Faenza, però magari si va a Rimini un pochettino più riposati, no Giorgio? Sì, il riposo è allenante anche quello. Poi comunque abbiamo fatto due giorni e mezzo di riposo, domani iniziamo, abbiamo tre doppi questa settimana, quindi sarà sicuramente una settimana intensa per arrivare più pronti possibile a una partita che sarà decisiva, ecco. Cesare, forse è il primo sonodo cruciale della stagione, allora è già stata la partita di andata, no? Perché dopo tre sconfitte, dopo tre sconfitte in quattro giornate, adesso si si gioca alla Coppa Italia. Sì, sicuramente la Coppa Italia è una motivazione in più che è stata ufficializzata da pochi giorni, quindi sì, siamo motivati e siamo anche fiduciosi di poter fare bene la nostra partita. Perfetto, quindi vi aspettiamo con Giorgio e Cesare qui a Baschettando. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, per gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet vcoazzuratv.it e ci sono le nostre pagine social. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.